Hotel Nord-Est Cattolica, la tua vacanza frontemare sulla gradevolissima passeggiata serale di Via Carducci. Direttamente sul mare con accesso diretto alla spiaggia dall'hotel. Camere con balconi vista mare, dotate di ogni comfort. Sala-ristorante con vista panoramica sul mare. Cucina curata con menù a scelta. Wi-Fi in tutto l'hotel. Parcheggio, sauna, palestra e solarium. Massaggi estetici e curativi su richiesta. Biliardo, biciclette a disposizione. Piscina riscaldata, idromassaggio, nuoto controcorrente.